argentino di mendoza approdato a milano esule da ovunque salvo che da se stesso migliaia di volte ma falda piccolina così che ragiona come cartesio e sente come schopenhauer e tanti uomini che invece continuano a non pensare cominciamo dall'inizio quando quando hai cominciato a disegnare immagino in argentina e che cos'è che ti ha spinto a disegnare mi ha spinto a disegnare il fatto di avere un tio uno zio beh ogni tanto mi scappa una parola in spagnolo uno zio disegnatore pubblicitario io avevo tre anni quando l'ho visto disegnare per la prima volta e sono rimasto colpitissimo di questo fatto di avere una matita in mano e per cosa veniva fuori così lui ti ha fatto disegnare anche sì perché poi è venuto da noi abitare a casa allora dove da voi dove eravate non eravamo in una provincia in argentina che vicina al confine col cile che si chiama mendoza poi da ragazzo diciamo a 14 anni così ormai era sicuro che il mio mestiere era fare il disegnatore di fumetti non sapevo ancora se di fumetti diciamo di quelli chiamati sul serio o umoristici comunque non sono d'accordo con te che io sia uno dei più bravi disegnatori sei certamente uno dei più bravi questo lo devi riconoscere no le mie idee mi piacciono ma il mio segno non mi piace per niente cos'è che lascia a desiderare nel tuo segno e la mancanza di libertà per disegnare non ho un segno così libero devo fare tutto prima matita però hai cominciato presto quanto mi dici hai cominciato bene cioè ormai dovrebbe essere una tecnica assimilata ecco appunto dovrebbe invece non lo è fatichi molto prima di arrivare al disegno che ti piace sì ma prima prima ancora fatico tantissimo per trovare una idea mafalda quando è nata esattamente esattamente è nata nel 63 ma poi ha visto alla luce diciamo nel 65 è stato pubblicato ed è quello è stato quello ad arti grande notorietà no sì purtroppo sembra che la gente ha bisogno di un personaggio così diciamo fisso per beh ho smesso di fare la mafalda perché l'ho fatta per dieci anni l'ultimo anno soprattutto per non ripetere le idee era una fatica tale che non so era una roba assurda completamente non si sapeva se si poteva andare a cinema perché io dovevo finire quella striscia lì per portarla al giornale alle dieci di sera allora non aveva senso una vita veramente molto sconvolta e i risultati neanche valeva la pena di continuare così e poi continuare a dire che l'umanità non va che il mondo è sempre con queste guerre questi guai ormai lo sanno tutti non so non ha senso magari se un giorno l'umanità o il mondo cambia no si potrà fare una mafalla piccolina così come sempre ma diversa non lo so quindi Grazie a tutti. I tuoi disegni sono di immediata compressione, chiunque li capisce dandogli un'occhiata, altri invece ci si deve pensare sopra perché non subito se ne ha la chiave, bisogna studiarli nei particolari. Quali preferisci tu? Io preferisco quelli che vanno pensati, ma anche questo è vero che un po' perché trovare quelle idee che fanno subito ridere è molto più difficile. Quando mi viene un'idea che, non so, penso questo magari va disegnato, pubblicato e nessuno lo capisce, allora vado da mia moglie e gli chiedo, senti questo si capisce? Beh, mia moglie fa il giudice, dice sì, questo si capisce, o non si capisce, non so, ma ormai dopo 19 anni di sposati mia moglie capisce tutto, come io insomma. E allora come testo non mi serve più sotto questo aspetto. E niente, non ho trovato un altro che faccia questo mestiere. Per esempio questa vignetta che vedo qui, prova a descrivermela tu con parole tue. Beh niente, quello che mi piace di questa vignetta è questo signorino qui, questo omino, che pur appoggiando un candidato politico si trova di fronte ai suoi compagni, diciamo, di corteo, portano la fotografia del candidato ma sorridente, intanto in quella che porta lui il candidato non sorride affatto. E questo non so, a me mi sembra molto divertente perché, vabbè, che non soltanto è divertente, può essere anche angoscioso. Quello che mi arrabbia è che la ricorrenza dei temi, la vecchiaia, l'omino solitario, non riesco a uscire di queste idee qua. E sei in buona compagnia, credo che i pittori hanno i chiodi fissi, come ce l'hanno gli scrittori. Dipende dal modo di trattare un argomento. Cosa ne pensi dei tuoi colleghi cartoonist? E fra gli argentini abbiamo avuti tutti noi, della mia generazione, un grandissimo maestro che si chiamava Oschi. Quello era molto bravo, lo ritengo il più bravo, quello sì, fra gli argentini. E' morto solo da poco, mi pare, no? Sì, sì. E eravate tutti molto legati a lui. Sì, tantissimo. E Oschi era veramente un personaggio stranissimo. L'ho conosciuto 25 anni fa così, io stavo lì nella mia provincia di Mendoza. E Oschi in quel momento lì abitava nel Cile, ma viaggiava continuamente su una motocicletta fra Buenos Aires e Santiago, che è un viaggio di 1300 chilometri, devi attraversare le Andi, non è mica una cosa facile. Allora, siccome c'era stata una nevicata abbastanza grossa, il passo era chiuso, Oschi è rimasto a Mendoza e l'ho conosciuto lì. E da allora è nata questa amicizia che è durata appunto 25 anni. E era, come dicevo, il padre di tutti noi, Mordiglio, Coppì, io. E niente, credo che sia, forse insieme a Steinberg e André François, uno dei pochi disegnatori che si può dire che era un artista, insomma. Adesso cosa ti piacerebbe poter fare come attività, in fondo, sempre nell'ambito del disegnare? Sì, perché visto che non so fare altro, però mi piacerebbe appunto imparare a disegnare bene, imparare a fare, non so, delle cose a colori, che è uno dei miei problemi, anche sono bloccato con i colori. Ma ogni tanto vedo che ci sono, per esempio, copertine del mago o altre volte in cui appaiono due cose a colori. Sì, ma non sono colorate da me. Cioè, io ho fatto, sì, qualcosa a colori così, però faccio tantissima fatica, perché mi manca avere in testa il quadro finale, cosa devo fare. Cioè, io faccio il disegno bianco e nero, metto il verde, diciamo, e poi rimango per delle ore, e adesso cosa faccio? Chino, bisogna conoscerlo per poi capire, interpretare e apprezzare anche meglio i suoi disegni. È un uomo correttissimo, vestito con un'eleganza misurata, mangia pochissimo, fa una vita, sembra molto triste, e in questa sua gentilezza è estremamente triste. È però, a giudicare, sembra addirittura triste, ma mite, è uno dei più feroci. Non tanto in Mafalda, che è un personaggio che bisogna vedere nel tempo in cui fu creato. Chino non disegna Mafalda da oltre dieci anni ha chiuso il personaggio della bambina, perché quella era la voce dell'Argentina. In Argentina si parlava un po' tra i piccoli, tra i bambini, come alludendo a dei peanuts argentini, lui invece ricollegava tutta la piccola commedia e la grande tragedia argentina. Ma Chino è in queste scene di vita borghese, spesso senza battuta, in cui l'unica battuta che si legge è Chino, che sono di una disperazione unica. Non fanno ridere, ma danno qualche cosa che è sul piano della commozione.